Per il web è già una star, stiamo parlando del piccolo Bridger, 6 anni, ha salvato con grande coraggio la sorellina dall'attacco di un cane e ora sono proprio i suoi supereroi preferiti a renderli omaggio, Monia Venturini. Forse è vero, supereroi si nasce, lo dimostra la storia di Bridger Walker, 6 anni, grande appassionato degli Avengers. Quando ha visto la sorellina, aggredita da un cane lupo, le ha fatto da scudo con il suo corpo e l'ha salvata. Il gesto gli ha costato una brutta ferita sul volto, 90 punti di sutura, ma lui non ha avuto paura e ha detto «Ho pensato che se qualcuno doveva morire, quello avrei dovuto essere io». La storia, raccontata dalla zia su Instagram, è diventata virale fino ad arrivare all'attrice Anne Hathaway in arte Catwoman. «Non sono una degli Avengers, ma riconosco un supereroe a prima vista», ha scritto prima di girare il post a Mark Raffalo, ovvero Hulk. «Sei molto più uomo di molti uomini che conosco», ha scritto il gigante verde al bambino, «e da lì la catena, un supereroe dietro l'altro». Spider-Man gli ha telefonato, Thor gli ha mandato un messaggio, poi Chris Evans, Captain American, in persona. «You're a hero». «Che gli ha promesso il regalo uno scudo originale, quello con la stella e i colori della bandiera». «Alla fine è arrivato anche Robert Downey Jr. in arte Tony Stark, ovvero Iron Man, che gli ha promesso un super regalo, perché di supereroe non ne nascono tanti e quelli veri vanno incoraggiati, fin da piccoli». «Gridger, sei un rock star». L'omaggio di Stefano Bollani a Jesus Christ Superstar. L'omaggio di Stefano Bollani a Jesus Christ Superstar.